Il Liceo Campana di Osimo partecipa per la prima volta ad uno degli eventi più innovativi della scuola italiana, la Notte Nazionale del Liceo Classico. L'iniziativa giunta alla settima edizione, nata da un'idea del professor Rocco Schembra, docente di latino e greco presso il Liceo Classico di Acireale, è sostenuta dal Ministero dell'Istruzione e ha saputo sensibilizzare l'opinione pubblica verso il tema sempre attuale del rapporto tra la cultura classica e i giovani, dimostrando in modo creativo e inusuale il valore altamente formativo del curriculum del Liceo Classico per la loro crescita umana e culturale. L'Istituto Corridoni Campana, punta d'eccellenza nel panorama scolastico delle Marche, ha sposato con entusiasmo questa iniziativa. Venerdì 28 maggio, dalle ore 16 fino alle ore 20, sarà offerto al pubblico un palinsesto ricco e variegato, letture, balletti, performance di teatro, mostre, dialoghi, in cui i protagonisti saranno gli studenti. Fiore all'occhiello della serata, la partecipazione della professoressa Jessica Piccinini, ricercatrice e titolare della Cattedra di Storia Greca presso l'Università degli Studi di Macerata, oltre che ex studentessa del Liceo Campana che intreccerà un dialogo con alcuni studenti sul tema del ruolo dell'oracolo dal mondo greco a oggi. Appuntamento in presenza, con ingressi contingentati e in diretta streaming sul canale YouTube della scuola. Siamo circa 300 le scuole e i licei classici di tutta Italia che partecipano a questo evento. è organizzato da tutta la rete nazionale, quindi avrà un'apertura tutto uguale in tutta Italia per poi proseguire una scuola a modo proprio.